Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 58enne di battipaglia già noto alle forze dell'ordine per detenzione e spaccio di stupefacenti. Dopo la perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 35 grammi di marijuana, un quantitativo di semi di marijuana di 12 grammi ed un bilancino digitale perfettamente funzionante. Eseguite le formalità di rito, l'uomo è stato collocato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.